Io ricordo che quando sono stato eletto Presidente della Regione si era persa ogni speranza. Noi abbiamo lavorato intensamente come Governo in collaborazione con il Parlamento, abbiamo messo a disposizione decine di milioni di euro, abbiamo rinnovato la governance con un Presidente un Consiglio di amministrazione competenti ed efficienti, ho incontrato più volte l'amministratore delegato di Ryanair per concordare un piano di azione, oggi l'aeroporto di Birgi è tornato ad essere uno straordinario motore di crescita del territorio e al tempo stesso diventa attrattore di capitali. La mia speranza come sapete è quella che si possa arrivare in Sicilia ad un unico sistema di gestione, spero che intanto il sistema aeroportuale diventi della Sicilia occidentale come lo è diventato della Sicilia orientale e che poi si possa aggregare anche Pantelleria e Lampedusa. Ci vorrà del tempo ma anche su questo fronte sono ottimista.